è sicuro che c'è 20 blocchi? dai gas devi provare? vai va avanti vedi? non c'era il blocco dai gas se vi fermate nelle flisce rosse non c'è farla riscaldare un po' cimenti di arancioni se vi fermate nelle strisce bianche se no questo non vale niente se no ci faccio tu un biglietto se eventualmente hanno qualche contravenzione senti ci ha portato a portare ci pensa ciccio